Il centro commerciale L'Aquilone con la fiera del disco, punto di riferimento oggi e domani per collezionisti e per tutti coloro che amano la buona musica, che potranno godersi due giornate ricche di musica per un viaggio attraverso la magia del vinile a 33 e 45 giri, dei mix e dei cd. La fiera del disco è una full immersion tra i vinili e cd di musica metal, punk, psichedelica e tant'altro. Con questo evento L'Aquila entra nel percorso che Ernia al disco e Music Day Roma realizzano nelle maggiori città italiane. All'Aquila espositori tra i più qualificati ed esperti per eventi di valore come presentazione di libri, dischi, artisti emergenti e personaggi, con una lunga carriera alle spalle, mostre e musica, insieme ad una vasta scelta di musica in cd e vinile, proprio per venire incontro alle richieste particolari del pubblico di questa specifica fiera. Durante le giornate della fiera del disco sarà possibile acquistare e vendere dischi, anche quelli rari e preziosi, avvalendosi del supporto e della professionalità degli espositori, dalle 10 alle 21 un viaggio di emozione ed esperienze da non perdere. Io provengo da Pisa. Senta, nel suo banco che spaccato di musica ha? Allora, io sono da ormai 30 anni specializzato nella musica rock, punk, new wave, diciamo sono più dalla parte del rock. Come va questo mercato? C'è interesse da parte del cliente anche per le collezioni? Sì, 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 c'è stata una decisa ripresa del vinile, soprattutto da parte di giovani e pubblico femminile soprattutto, e anche da parte di tanti signori che in precedenza, anni fa, avevano venuto alla collezione per comprarsi i cd, hanno poi finalmente capito che il vinile è il supporto fonografico per eccellenza. Sì, 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 sì.